Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di Terminator Resistance, l'ultimo gioco uscito da casa Traion che sono rimasti tristemente famosi per il gioco di Rambo, Rambo di videogame. Non so se ve lo ricordate, era quel gioco tanto atteso dai fan della saga di Rambo, anche perché è un gioco di Rambo che non si vedeva, correggetemi se sbaglio, ma era dei tempi del coin-op Rambo 3 in sala giochi, l'arcade per il mame, che poi tutti conosciamo, o le vecchie versioni tipo quello per Mega Drive, era bellino, insomma c'erano tanti giochi su Rambo, però è un brand un po' lasciato da parte e non ci sono più stati fatti videogiochi e sono diventati tristemente famosi perché quando è uscito il gioco, gioco che riprendeva tutti e tre i film della trilogia, non contando il 4 e ovviamente il John Rambo che è uscito da poco, Last Blood, riprendeva i primi tre film, però era un gioco su binari, era un gioco su binari, tra l'altro brutto, fatto male, con una grafica del cavolo, e tanto che nemmeno i fan più accaniti quel gioco lì è piaciuto perché un gioco del genere andava bene in sala giochi, con le pistole e con i mitra a sparare, ma sicuramente un gioco per PC uscito nel 2017-2018 anche no. Comunque, dagli stessi è uscito Terminator Resistance, così un po' su due piedi, perché alla fin fine 4-4 è spuntato appena appena la notizia un mese prima dell'uscita e il gioco è già uscito da qualche tempo. Gioco è uscito, tra l'altro, per tutte le piattaforme, quindi per PlayStation, per Xbox e per PC. Non è un AAA, ci tengo subito a dirlo, e intanto colgo l'occasione per ringraziare Cock Media Italia e ringrazio veramente di cuore Giosafatte per averci offerto una copia per la recensione, così come anche di Shenmue 3, che vedrete comunque a breve, successivamente, nel prossimo videogameplay. E devo dire la verità, ne sono rimasto, poi il voto ve lo do alla fine, particolarmente colpito, per quanto non è un capolavoro e ve lo dico subito, però non è nemmeno un giocaccio come Rambo su binari. Ne sono rimasto colpito perché, come giochi di Terminator, ora, Rambo ne ha avuti meno di giochi rispetto a Terminator, se ne va ancora in dieta a tempi del Mega Drive e quant'altro, però Terminator ne ha avuti tantissimi anche negli anni e hanno fatto, io parlo sempre come magno, hanno fatto tutti quanti schifo, decisamente. L'unico leggermente più decente, ma che è stato tolto dal mercato, non so perché aveva avuto problemi, aveva avuto problemi di copyright, fu quello Terminator, che non mi ricordo come si chiamava, ma comunque ambientato nel futuro, e che faceva da prequel a Terminator Salvation, dove il protagonista John Connor è interpretato da un magistrale bravissimo, Christian Bale. Era un gioco tipo alla Gears of War, dove dovevi andare in copertura, sporgerti e attaccare Terminator. E per quanto sia stato torto dal commercio, non si trovi più, non c'è nemmeno più su Steam dove si poteva acquistare, per me non era una cagata del genere, eh, quel gioco lì. Devo dire la verità, l'ho apprezzato abbastanza. Ovvio, dovessi dare un voto al prequel di Salvation, quel videogioco, gli avrei dato un 6 su 10. Però comunque, dai, almeno alla sufficienza c'era arrivato. Invece, in Terminator Resistance, quello di cui parleremo oggi, a me da una parte è piaciuto, perché mi ha rimandato indietro nel passato. Mi ha rimandato indietro di 20 anni, no, voglio essere sincero, di 25 anni, anche di più, perché mi ricordo ero fra le elementari e le medie, di 25 anni abbondanti, quando uscirono due titoli, per 486, vi ricordate 386, 486 e il primo Windows 3.1, uscirono due giochi di Terminator, o Open World, tra virgolette, ma che già all'epoca anche gli Open World, tra virgolette, sembravano di essere nel futuro avanti i 3.000 anni, perché i giochi erano tutti su binario, vi ricordate? E... o platform. Uscirono questi giochi che il primo era Terminator Future Shock, ed era bellissimo, era tutto ambientato nel futuro, dove voi eravate un soldato di John Connor che doveva combattere per la salvezza, tutto nel futuro. E qualche anno dopo, 2, 3, 4 anni al massimo dopo, uscì Terminator Skynet, che era il continuo diretto di Future Shock, ed era bello perché non era un Open World, come non lo è nemmeno Resistance, però le mappe erano abbastanza ampie da nascondere una specie di Open World, un po' come Dark Souls. Ecco, l'esempio. Dark Souls non è un Open World, però quando arrivate in una mappa nuova, c'è talmente tanto da esplorare, antiche rovine e cose del genere, che un po' ve lo ricorda un Open World. E lo stesso fa Terminator Resistance, perché la mappa è quella, e tal lato è diviso in macro aree, la mappa di gioco, frazionata da dei caricamenti veloci, un po' come il primo, Half-Life. Quindi, anche per evitare caricamenti troppo lunghi che andrebbero a gravare sulla RAM, insomma, è un vecchio trucco che stanno iniziando ad usare sempre di più. Però, a parte quella, a parte le micro frammentazioni delle mappe di gioco, sono abbastanza ampie e comunque sono abbastanza esplorabili, sia in spessore che in altezza, perché, vabbè, palazzi, grattacieli, AT3, quattro piani, uno entra, va a scavengiare risorse e tutto quanto. Quindi il gioco è abbastanza Open World. La struttura del gioco è molto arcade-ona, perché sì, c'è il sistema e tutto quanto in soggettiva, non si può andare in terza, c'è la possibilità di sparare, sfruttare le coperture e cose del genere, però, insomma, quella forse della parte del combattimento non dispiace, però è quella meno precisa, un po' più rosa, anche perché la mira balla troppo quando sparate, insomma, se è un soldato del futuro dovreste avere la mano molto più stabile. Però, vabbè, sono cavolate, il gioco gira ed è divertente abbastanza, almeno per quello che riguarda me, infatti, io non sono un recensore di professione, faccio video di cosa ne penso, quindi è un parere personale, sì, cerco di essere il più professionale possibile. Poi, un'altra cosa bella, hanno cercato di dargli una parvenza GDR molto piccolina, che è tipo i due decimi di tutto quanto il prodotto, però è carina perché il vostro personaggio passerà di livello e passato di livello potrà prendere puntabilità in tre rami, che sono prettamente rami di combattimento, rami di scienza e rami di survivability. Praticamente, il primo è quello che ti dà più, resisti di più ai colpi o anche semplicemente miri meglio con le armi o fai più danno. Il secondo, della scienza, è per andare a fare costruzioni e cose più tipo scassinare o manomettere i terminali di Skynet e il terzo, invece, è più sul lato sopravvivenza e cose varie con più punti esperienza, trovate più roba quando andate a scavengiare e cose del genere. Ora, ci sono varie cose che mi sono piaciute e altre meno, ovviamente, come in tutti i prodotti del mondo. Quelle che mi sono piaciute di meno, e poi vi dico invece quelle più belle, di meno è che la struttura, sì, ve l'ho detto, è una parvenza di open world, però ancora troppo guidato, quindi anche con, ve l'ho detto, questa parvenza di GDR potrete fare di dialoghi a scelta multipla, però alla fin fine il finale non cambia. Sì, possono cambiare le relazioni con i personaggi, tipo un po' come nei giochi della Telltale, quello apprezzato, quello invece non apprezzato, l'avete offeso, però poi è tutto abbastanza fine a se stesso, invece laddove nei giochi della Telltale invece proprio la storia anche a volte cambia, qui no, però diciamo che ecco, bene o male, a parte un paio di scelte un pochino più sostanziose all'interno del gioco, con la storia abbastanza lineare. Storia che ci vede ovviamente nei panni di Jacob Rivers, un soldato di Pasadena in America che è stato staccato dal suo comando e che ovviamente deve ritrovare la sua strada per poi ricongiungersi a John Connor e portare avanti l'offensiva contro Skynet. Se avete visto Terminator 1 e 2 non vi racconto niente. E un'altra cosa che non mi è piaciuta particolarmente è la durata che dura poco perché mi ci mette tanta carne al fuoco, scavenge, vai in giro per gli edifici a trovare roba, con la roba che trovi va nei terminali nelle basi ti costruisci l'equipaggiamento almeno 20 ore fa mi giocava, invece dopo 5-6 ore ma stirate 7 e il gioco è già finito. Cioè non mi dà tempo nemmeno di arrivare al massimo livello col personaggio che il gioco finisce prima. Comunque, beh, non vi spoilerò niente a parte questo. Le cose che mi sono piaciute da morire, questo veramente le do al massimo del voto, uno, che il gioco è ambientato su Terminator 1 e Terminator 2, ok? A cavallo, praticamente nel futuro che si è visto nell'1 e nel 2 perché già da Terminator 3 che è uno schifo oppure Terminator Genesis o l'ultimo Dark Fate destino scuro che fa ancora più schifo di tutti i lati messi insieme. Per me Terminator è finito con 2 quando il T-800 scende nella lava fine, punto, basta. Però qual era la concezione? Che poi anche Terminator Salvation ha annullato per quanto mi sia piaciuto non so perché. Nel futuro i Terminator soprattutto il T-800 non vengono abbattuti dalle armi dell'epoca tipo, che ne so, calibri 9 mm, fucili d'assalto, fucili a pompa come avete visto nel film. Ci sono le armi laser o meglio dire al plasma. Le armi al plasma sono le uniche che riescono a bruciare il processore del Terminator infatti non è che li strappi un braccio sparandolo non hanno quella potenza però col plasma ben riscaldato riesce a mandargli in override sistemi e anche un T-800 tipo Schwarzenegger subisce un paio di colpi vanterra fritto completamente. Sono armi che nel passato non avevano ma che nel futuro hanno rubato a Skynet perché sono le stesse armi con cui Skynet uccide i membri della resistenza degli umani e quindi gli umani gliele ritorgono contro nonché ovviamente andare ad hackerare che si vede nel gioco è bellino potete anche andare a hackerare Skynet tipo le torrette le potete hackerare per difendervi mi sarebbe piaciuto riuscire ad hackerare anche un Terminator ma non ve lo fa fare comunque per non divagare troppo è bello perché ha questa concezione che ti rimanda ai primi due film dove c'erano questi soldati come Kyle Reese John Connor con quest'arma al plasma poi le musiche sono bellissime sono quelle di Terminator aspettatevele veramente la colonna sonora ci sta da paura è presa proprio ufficiale da Terminator quindi nel momento giusto mentre magari siete rincorsi ta-tan-tan-ta-tan ta-tan-tan ci sta da paura e tutti i nemici famosi che abbiamo trovato nei film ce li sono quindi il T600 il T800 tipo Schwarzenegger gli Hunter Killer quelli che volano e sparano vi ricordate il Goliath che era quello grosso col cingolato che vi ricordate li tirano le bombe sotto il cingolo e poi tutti gli altri ovviamente che hanno aggiunto che sennò c'era poca roba droni volanti delle specie di sentinelle che camminano a quattro zampe insomma ci hanno messo un po' di roba perché sennò solo il Terminator ha delle specie di droni talpa e quant'altro e ci sta veramente bene poi il gioco si divide in varie fasi la prima fase è una fase completamente stealth perché avete sì l'M16 bazooka bombe dimenticate però M16 pistole calibri piccini potete arrivare anche al 556 o al 752 con l'AK ma un T800 non gli fate niente e sicché dovete aspettare di avere da metà storia in poi prenderete ritroverete la resistenza prenderete vi verranno affidate le armi al plasma armi al plasma che poi potete rubare direttamente ai nemici e quindi inizierete a poter buttare giù tutto quello che si muove anche gli Hunter Killer che passano con comunque creature molto più grosse è bello perché in alcune missioni ci sono è ricco non ce n'è tantissime però è ricco ce n'è un bel po' sono diversificate di missioni secondarie quindi magari durante la missione principale potete deviare andare a distruggere un campo di Skynet per sabotarlo insomma di ciccia al fuoco ce n'è il problema è che il gioco è un po' troppo tirato via perché dovevano stare attenti molto a più cose del tipo alla precisione delle armi all'accuratezza anche delle armi ma accuratezza un po' storica anche nel senso lì che a volte anche i suoni che si sentono è tutto insomma un po' troppo abbozzato si vede che è un arcade la parte GDR ci sta ma dura troppo poco ed è sviluppata male i dialoghi con gli altri personaggi ci stanno però non portano a nulla più che altro si vede che è un prodotto low budget che ha preso un marchio e con quello budget che hanno avuto magari anche i programmatori che venivano dal Rambo non completamente esperti però comunque il prodotto tirato alla fine ci sta poi per arrivare dalla seconda metà in poi del gioco che diventate un combattente vero e proprio e anzi avrete anche NPC che vi seguiranno durante le missioni e tutto per poi arrivare alla battaglia finale non ve la racconto contro Skynet allora se devo dare ah il gioco ovviamente è ricco di azioni è adrenalina non ci sono tempi morti a parte quando andate a girare a scavengiare però è molto adrenalinico se le devo dare un voto finale do un 7 meno meno che è una cosa che non ho mai dato perché di solito do sempre le metà ma questa volta le lo le da perché potrei dire anche 6 e mezzo però 6 e mezzo sembra quasi poco più della sufficienza e invece secondo me è leggermente un 7 meno vai ce l'avevo un meno è un puntino leggermente meno per essere un gioco secondo me è tutto sommato discreto alla fin fine non è un giocone vi consiglio anche io caldamente di aspettare magari magari col Black Friday o altre offerte che ci saranno di prenderlo un pochino scontato e di non aspettarvi troppo però due cose ve le posso assicurare perché io lo sono io sono fanatico sfegatato di Terminator come anche di Alien e ci sta per un altro giocatore magari no però per un fanatico ci sta e poi magari la prima partita ti tira la seconda anche per vedere magari di scoprire segreti che avevate persi o di distruggere basi di Skynet che avevano scappate o vi ricordate le meno il perché magari ci avete fatto caso e la seconda assolutamente di tutti i giochi di Terminator usciti fino ad oggi quelli più bellini che mi ricordo erano quelli per Mega Drive però poi o Robocop contro Terminator però erano cavolate erano bellini perché ci sta sempre la concezione che tutto quello che abbiamo giocato quando si era piccini deve per forza essere un capolavoro no c'erano anche tanti giochi schifosi quando si era piccini non è perché degli anni 80 allora è bello e che mi ricordi forse l'unico Terminator che mi ha fatto divertire è stato Terminator 1 per Mega Drive e Robocop contro Terminator del Mega Drive del Super Nintendo ma era robetta quindi di tutti i giochi che ho fatto fino a oggi di Terminator togliendo i due unici capolavori che io mi ricordi che sono Terminator Future Shock e Terminator Skynet sì forse dopo questi due che li considero forse davvero gli unici giochi digni di nota questo è il più bello quindi di tutti i giochi che sono usciti negli ultimi anni di Terminator in assoluto mi sento di dire che questo è il più bello di tutti quindi non è un capolavoro non è un gioco per tutti magari qualcuno lo prenderà e li farà schifo però per i fan ma i fan veri che se ne intendano dell'ambientazione e tutto quanto che hanno adorato Terminator 1 e Terminator 2 in un gioco del genere si divertiranno personalmente personalmente l'avrei preferito più non troppo open world ma soprattutto il taglio GDR è bellino ma non ce l'avrei messo l'avrei fatto più immediato come Terminator Salvation l'avrei fatto più botte o più all'uncharted cioè proprio adrenalinico allo stato puro anche se il gioco durava 5-6 ore andava bene lo stesso il problema è che farlo durare 5-6 ore non arrivi nemmeno al tetto di sbloccare tutte le abilità il gioco ti finisce insomma un pochino male ci resti però diciamo che il gioco è interessante quindi per me è passato magari non ha pieni voti però comunque è un gioco sicuramente da tenerli conto vi ringrazio ancora una volta Cock Media per averci offerto una copia per la recensione e ragazzi dateli se siete fan di Terminator assolutamente una possibilità comunque tanto trovate il link in descrizione dove acquistarlo e tutti quanti i nostri social ciao ragazzi alla prossima